Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, terzo video di giornata, oggi copertura totale, sono molto contento E' terminato Amarassi, 2-2 tra il Genoa neopromosso e il Napoli campione d'Italia Voglio partire subito facendo i complimentoni al Genoa, perché ha fatto una grandissima partita E a mio avviso avrebbe meritato di portare via i tre punti Faccio i complimenti al pubblico del Genoa, perché oggi ha spinto tantissimo la squadra E ragazzi, fa tutta la differenza del mondo, avere uno stadio che ti spinge, io lo continuo a dire E conosco bene Amarassi, sia sponda genuana che sponda sandoriana E Amarassi deve essere il fortino del Genoa Il Genoa in casa deve cercare di portarsi via più punti possibili Perché veramente il pubblico del Genoa li spinge tanto E deve essere il loro dodicesimo uomo, assolutamente Voglio fare i complimenti a Gilardino perché secondo me ha preparato la partita molto bene E penso che il Genoa tornerà a casa, i giocatori torneranno a casa con un po' di amare in bocca Perché è vero, prima della partita probabilmente avrebbero firmato per un punto Però per come si era messa la partita andare sopra 2-0 a pochi minuti dalla fine È sicuramente una sorta di beffa diciamo Il Genoa per me ha fatto un partitone ma potrei citarvi i più giocatori che mi sono piaciuti tanto Badel, Strotman che ha anche fatto una chiusura veramente importante Kurt Munson che secondo me ha fatto una gran bella partita E migliorasse sottoporta sarebbe meglio Riteghi Anche lui secondo me ha fatto una partita di sacrificio Direi che si è anche fatta morire per un fallo su Kovara È uno che comunque si spende, a me questo mi piace tanto Quindi complimenti al Genoa, complimenti veramente al Genoa E meno complimenti onestamente al Napoli Al Napoli gli faccio i complimenti per la reazione finale Però ragazzi, ah ovviamente complimenti a Bani Perché secondo me anche Bani ha fatto una gran bella partita Il gol e ha fatto proprio una buonissima partita anche proprio difensiva Però il Napoli a parte riacciuffare il pareggio negli ultimi Diciamo prima con, ha accorciato le distanze con Raspadori E poi con un gran bel gol di Politano Onestamente a me il Napoli non è piaciuto Ha sbagliato tanto, ha sprecato occasioni importanti Ricordo un contropiede, Ozyman e Kvara Sprecato da Ozyman per non dare subito il pallone Con Kvara che poi finisce in fuorigioco E neanche riesce a stoppare la palla e tenerla lì Napoli che avrebbe potuto fare molto di più Però ragazzi, io vi dico la verità A me non convince Rudy Garcia Secondo me il Napoli avrebbe potuto prendere altri allenatori Tanto la stagione dell'anno scorso non è ripetibile Sarebbe stata irripetibile comunque Quindi avrebbe puntato su un altro tipo di allenatore A me Rudy Garcia è un allenatore che Non dice assolutamente nulla Secondo me non aggiunge assolutamente nulla a questo Napoli Mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa di diverso E oggi si è affidata ai singoli alla fine Perché il secondo gol, ragazzi È una gran bella giocata di Zelischi È un gran colpo di Politano Napoli è andata molto a cercare i singoli Non mi è piaciuto come ha giocato il Napoli Onestamente non mi è piaciuto Li faccio i complimenti per averci creduto E aver preso il punto E a Genova io dico sempre che comunque andare a giocare È sempre difficile Non importa che il Genoa o la Samp Siano ultime in classifica O nella zona medio alta È sempre difficile andare a Marassi Però ecco Ragazzi ve lo dico Ve lo dico proprio onestamente Io da Napoli mi aspetto molto Ma molto molto di più Molto di più Hanno fatto una fatica incredibile a contenere Gudmussen E che se migliorasse sottoporta Secondo me sarebbe veramente un giocatore Molto molto Forte Al momento è un giocatore molto interessante Ma migliorasse veramente sottoporta Secondo me sarebbe Un giocatore da Anche da Premier League Ve lo dico proprio chiaramente E E quindi ecco Il Genoa Quest'oggi ha fatto Ha fatto vedere Un atteggiamento Nettamente Più propositivo E migliore rispetto a quello del Napoli A me è piaciuto tanto Che mi ha affrontato il Genoa questa partita Ragazzi senza paura Stiamo parlando della squadra Neopromossa Neopromossa Che va a giocare Una partita contro la squadra Campione d'Italia Che tecnicamente Avrebbe dovuto vincere Perché oggi Il Napoli Andava a Genova Per vincere Perché aveva già avuto Una battuta d'arresto Contro la Lazio Cioè E ci è mancato poco Che uscisse con zero punti Anche oggi Quindi il Napoli Si deve fare Si deve fare delle domande Si deve fare Assolutamente Delle domande E ripeto Io non ritengo Garzia Un allenatore All'altezza Poi Questa è assolutamente Una mia idea Però Mi aspetto comunque Di più Anche dai Giocatori stessi Non vedo Onestamente Ve lo dico La compattezza Che c'era l'anno scorso Che comunque Era dovuta anche ai risultati È ovvio La fiducia L'allegria Tutto fa La testa Tutto fa Quest'anno è un'altra stagione Si è ricominciato da capo Si è azzerato tutto Quindi questo Questo fa tanto C'è stata un'occasione Verso il fine Fin di partita Dove Osimene È andato Praticamente Verso la bandierina E ha cercato Di mettere un pallone in mezzo Sperandogli una deviazione L'anno scorso Una giocata simile Una giocata simile Fece gol A consigli A Reggio Emilia E io Ho avuto un attimo Questo pensiero Ho detto ecco Qui non è riuscito nemmeno A ottenere un calcio ad angolo Lì addirittura Trovò la papara di consigli E fece gol Come cambia Nel giro di pochi mesi Un mondo Da punto di vista Calcistico Quindi ecco Napoli a me non dà garanzie In questo momento Onestamente Non mi sembra Una squadra solida Non mi sembra Assolutamente Una squadra solida Sono curioso di vedere Cosa farà Perché comunque Ragazzi Ha preso gol Ha preso due gol Da Genoa Ha preso gol Da Frosinone Ne ha presi altri due Direi dalla Lazio Cioè Una squadra che comunque Prende anche tanti gol Comunque Nel primo giornato Ha già preso un po' di gol Quindi deve assolutamente Lavorare La squadra di Garcia Vedremo cosa verrà fuori Complimentoni ancora A Genoa Ragazzi veramente di cuore Complimentoni Partitone Partitone Io Vi mando un forte abbraccio Faccio vi da iscrivervi al canale Diffondete il verbo Ragazzi Non vi costa nulla Iscrivervi E' gratuito Basta cliccare su Iscriviti E' il gioco è fatto Se avete piacere Attivate le notifiche Commentate Mettete like E io sono qua Ci vediamo domani Un forte abbraccio Ciao ragazzi